Ragazzi, sono Tufalo, oggi mi si è abbassata la voce. Allora, praticamente, mi stavo dicendo, infatti, ora che vedo il pelle, vabbè. Oggi, mi sono andata avanti nei videogiochi, non posso fare i video perché il mio telefono ha avuto problemi. Quindi, stavo controllando. Non posso più fare i video su GTA perché l'ho dovuto restituire. Ho capito che sull'Xbox non si vede niente, quindi non farò più nessun video. Ma c'è un altro videogioco. Scrivetemi che gioco, se lo vedete, è Lepo Dimensions. Su Filtry sono andato avanti. Ho quasi finito, ma lo ricomincerò e andrò avanti. Se volete vedere il continuo di Fall Cry, è Fall Cry Cry Malport 2, è Tufal. Sì, vabbè, è Tufal prima. Abbiamo fatto un altro video per te lo risponde. Sì, vabbè, l'ho chiamato così, contanto per, se volete vederlo, un altro video per te lo risponde. È il vecchio. Ce ne sono due adesso, con questo il secondo. Ciao! Ciao! Ciao!